Mamma che sembra proprio... Oh! Cazzo, una raggina! Oh, metti... Buongiorno ragazzi, signore e signori, siamo qua a Copenhagen. Voi a chi sta giocando con la salsiccia, lasciamo vedere. Allora, oggi vi presenterò... ...un buffet di formaggi fantastico. E dobbiamo indovinare quale è stato detto, quale è noto. Cazzo, ma ce lo so. Ecco, ma si presenta la macchina. La carne della francese. Scaluta un anno fa. C'è una maniata che sta risuscitando. Va bene, intanto che voglio tagliare i salsicci, taglio un po' di formaggio. Allora... Primo formaggio. È un caprino. Allora, lo chef ha detto che è un caprino. Adesso vediamo se è un caprino in bocca. Lo faccio sulla piadella, potessi piadella. Sulla piadella? Sì, per fare... Questa, abri, inizio. Allora... Un filo d'olio della francese. Allora... I pomodori mi piacciono a spicchio rotellino. Sorprendici, cazzo. Ok. Primo pezzo di formaggio. Primo tipo di formaggio. Lo spunto a chicca. Non c'è più immondizia? Non c'è più immondizia. Non c'è più immondizia. Guarda qua. Posso usare questa sacchettola, eh? Vedi, con le immondizie va bene. Questa è delle buoni? Sì. Cioè, questo è un video quando stiamo cucinando. Vabbè, c'è più immondizia a poi di che lì. Facciamo le rossilline di pomodoro con olio e sale e mozzarella dentro. Come penso. Sì, bravo. Ma con cagione vai a lei. Si apre così, barri. Con Zoiberg. Ah, aspettai. È onion. Allora, questo formaggio si presenta a un gusto. A parte che l'ho già ingiottito. Vado di essere già l'attività, però. Guarda un pezzo. Vido me. Guardate la telecamera. Guardate la telecamera. È di un formaggio di sale marino. Però adesso ci ho avuto su un po' di miele e canella. Anche miele e canella. È di un po' di miele e canella. È buono. Vabbè. Primo formaggio, dai. Approvato. Approvato. Voglio vedere se ci sarà un qualcosa che non approvano. Copriamo subito, amici, se c'è qualche formaggio che non approviamo. Allora, assaggiamo subito un pezzo. E' un po' di salsiccia cruda. Guarda questo, sembra un po' pesino. Faggiamo. L'hai buttato con il mio netto. Ma è brutta. Vado, quando l'avete comprato questo insalato? Non avevo idea. No, ok, ok, va bene. Allora, assaggiamo questo formaggio, il povero. Lo so che tipo è questo. È amaro, buono. Formaggio amaro. Amaricchio. È alcolico, sai? È alcolico? Sì. Sì, non c'è scritto. Se mangi mezzo chilo, non puoi guidare. Ti dite la non la patente. Ma forse anche perché vomiti. Vabbè. Secondo formaggio, lasciamo perdere. No, ho baciato? No, non lo so, dai. Magari più tardi ripassiamo. Terzo tipo di formaggio. C'è quello stesso, taglia qua. Eh, dai, c'è quello stesso. Tanto tipo di formaggio. Allora, guarda. Fai, avete voluto il formaggio, però, guarda. Aspetta. No, scusa, scusate. Uno forse non è il potello più adatto. Non è il potello più adatto. E' un cazzo di chef i formaggi. È incredibile. Si vede che siamo italiani. Ah, scusate. Questo, prima che lo distruggo. Questo è un trofeo che abbiamo preso al Davide, allo Scottish. Questo è un regalo che ci ha fatto allo Scottish. Vedete, è già inizio a serata. È già inizio a serata che abbiamo detto, prendi, prendi, che ce lo portiamo a casa. Infatti, ce l'avevamo fatta. Per la simpatia. Per la simpatia. Per la impegno. Ringraziamo Bojan. Prego. Però non viene a me anche. Come bocchi il formaggio? Questo com'è? Secco. È secco. Assaggia. Tutta la scorta? Ma sì. Lo porto via la scorta. Quale? No, il peccolino con tutta la scorta. Questo è il peccolino magico e si mangia senza scorta. No, beh, quella nera, chiaro, la togli. Non sembra che ha trame. Diciamo che un formaggio senza se e senza no. Non voglio dire, non so, però vabbè. Ma qua non bollisce, cioè, non bollisce. Cazzo deve bollire. Ma chi è l'animale che ha messo la stacca anche apposta? Questa è la preda la francese. Questa è proprio la francese. La sua vacca o per un cazzo? Il nostro campo è il spiatorio di Finutia. La mia ragazza è incinta. Perché? Ma è incinta. Ma io ho detto che... Non so. È incinta di noi. No. Sì, la vado da sotto sotto a mangiare un altro pezzo che... Porca troia. Porca troia. Cioè, questo è proprio... Da documentario Living in Copenhagen. Ma è molto living. Che ci manca? Quanto formaggio? Vabbè, questo è il classico. Questo è il grano a padano di auricchio. Non l'ho mai sentito. Però... Cioè, c'è la padano. Non l'ho mai sentito. Da auricchio. Tagliò a scagliere. Ma taglialo qua, cazzo. Sai tagliare la posta. Non ti preoccupare, perché c'è la sassincia che deve amalgamare con... Beccato. Insaggia poco. Devi com'è. Ti ho detto, questa è la puntata. I formaggi. Avvigliare la cazzo. Ma il burico si sgrassa... Ma perché stai accontellando la salsiccia? Perché sono scemo. Non mi parla. Allora IO